Ti introduco io, da Zain, siamo qui con Daniele che sta facendo una protesta domenicale, prego. Ciao, mi chiamo Daniele, ho 30 anni, faccio parte di un movimento che si chiama Extinction Rebellion, che è presente in tutto il mondo e sono veramente preoccupato perché non vedo che questa democrazia ha la forza per portare avanti una transizione vera. Siamo in un periodo di crisi, c'è stata una crisi sanitaria che continua a esserci, c'è una crisi climatica e ecologica che sono anni che va avanti ed è sempre peggio e non riescono con questa forma di democrazia a trovare delle soluzioni vere. Quello che io mi auguro e spero di ottenere è un'Assemblea dei cittadini e delle cittadine, una forma nuova di democrazia in cui delle persone estratte a sorte possono prendere delle decisioni per tutti, dopo essersi consultati con esperti, dopo essersi consultati con portatori di interesse, per una transizione giusta ed equa. Hanno quindi le decisioni prese dall'alto per l'economia come adesso sta accadendo? Ma sì, è proprio una democrazia che non sta più rispondendo alle esigenze vere della gente, sta rispondendo alle esigenze di piccole persone, sta rispondendo alle esigenze economiche, di un capitalismo che deve andare avanti a tutti i costi, quando veramente non ci chiediamo mai se è quello che vogliamo davvero, se è quello che ci serve davvero. E bisognerebbe proprio farsi questa domanda. C'è anche un'iniziativa di legge popolare, con politici per caso, la potete trovare online, si può firmare anche con la Speed, in cui proprio si chiede di implementare, non di sostituire, ma di implementare all'interno del nostro ordinamento, la nostra costituzione, una forma nuova di democrazia, per prendere appunto quelle decisioni che sono anche un po' scomode da prendere. Grazie. Grazie a te, grazie mille. Speriamo che serva questo messaggio. Speriamo, speriamo.